Caro, per oggi a pranzo pensavo a un paio di bistecche, a dei pomodori gratinati, a delle patate, dei peperoni, delle melanzane, ma anche funghi, una pizza, due uova, le crepes, una soiola e una coda di rospo, ok? Allora ci vediamo più tardi. Ma tu mangi sempre così? Ma come fai? Io uso Cucina Snella, l'innovativo sistema di cottura in vetro ceramica che ti permette di cucinare cibi gustosi eliminando i grassi, così non rinuncio alla buona tavola e mi mantengo in forma. Davvero? E come funziona? È semplicissimo, vieni a vederlo. Anzi, vi invito tutti a casa mia. Cucina Snella è pratica e velocissima, grazie alla sua alimentazione elettrica puoi portarla dove vuoi ed è ideale per cucinare in modo rapido cibi naturali e assolutamente privi di grassi. La sua piastra infatti permette una diffusione del calore più omogenea e una cottura più graduale, impedendo la formazione di quelle sostanze cancerogene che si producono inevitabilmente nella cucina tradizionale, ai ferri o alla griglia. I cibi infatti vengono direttamente cotti sulla sua superficie, senza bisogno di oli o grassi aggiunti, come ad esempio la carne, il petto di pollo, le fettine di maiale, il manzo, la soiola, il salmone, ma anche le verdure, i pomodori e le zucchine, i peperoni, le melanzane, le patate e la pizza, il pane, le piadine e anche le uova. È il loro valore proteico, rimane inalterato per una cucina sana e naturale che fa bene alla salute e non appesantisce. Pensa che le pietanze cotte con cucina snella sono più gradevoli al palato e non si seccano mai, quindi rimanendo più morbide agevolano anche i soggetti che hanno problemi di deglutizione o masticazione. In più favoriscono la diminuzione del colesterolo. E il sapore? Assaggialo tu stessa. Ecco un pezzettino. Ottima! Superlativa! Certo, perché con cucina snella cuoci senza mai bruciare i cibi e in più non perdi né il sapore né la fragranza. E poi cucina snella è pensato per donne come noi, che amano la buona tavola e non rinunciano alla carriera, perché poi il tempo per i pasti ne rimane sempre davvero poco. Cucina snella infatti si scalda subito, la accendi e inizi a cuocere. Immagina che per una soiola ci vogliono soltanto due minuti di cottura, uno per lato. Cucina snella è anche scaldavivande e grazie al suo pratico formato la puoi usare in ufficio e in qualsiasi altro posto di lavoro. Oppure tenerla al centro della tavola durante i pasti. Certo, per gustare i cibi sempre perfettamente caldi, accompagnati da lunghe chiacchierate tra amici. Tu pensa che noi d'estate la portiamo anche in giardino e l'allegria è assicurata. E per pulirla? Anche questo è facilissimo, grazie al kit compreso nella confezione. La piastra antiaderente non permette ai cibi di attaccarsi e i residui della cottura vengono eliminati facilmente grazie al suo utensile. Poi basta una passata con il suo panno e il suo detergente multiuso e torna come nuova. Allora, ricapitoliamo. Cucina snella è pratica, facile da usare, velocissima, consente di cucinare cibi fragranti e gustosi e in più mi mantieni in forma e fa bene alla salute. Ma allora è un elisir di lunga vita. Esatto, con Cucina snella avrai più tempo a disposizione, un migliore aspetto fisico, più lucidità mentale e inoltre avrai più vigore ed energia. E da quando la usiamo sei in ottima forma anche tu. Parola di donna. Corro subito a comprarla. Ma no, chiama la MGL al numero in sovraimpressione e Cucina snella ti arriverà direttamente a casa. Bastano solo 179 euro e per tutto questo vale la pena. E i vantaggi non finiscono qui. Se acquisti cinque pezzi di Cucina snella, MGL ti offre una vacanza di sette giorni nelle città più belle d'Italia. Cucinare sano, mente sana, vivere sano. Allora capito? Cucina snella, più sana la tavola, più snella la vita. Chiama la MGL al numero in sovraimpressione e Cucina snella ti arriverà direttamente a casa. Bastano solo 179 euro.